Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Per sì sono correnti fresche dei quadranti orientali a causa di una massa d'aria più fredda presenti sui Balcani. A farne i conti sono le regioni meridionali e il basso Adriatico con passaggi nuvolosi a tratti instabili. Nei prossimi giorni il promontorio di alta pressione che sta apportando bel tempo su tutto il centro nord Italia pian piano conquisterà anche le regioni del sud riportando il sole e temperature più primaverili. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 15 marzo. Al mattino nuvolosità più compatta su entrambe le regioni con possibilità di qualche debole e sporadico rovescio nelle zone interne lucane e della morgia barese. Nel corso della giornata ritornerà il sole quasi ovunque con ultimi addensamenti solamente sui rilievi lucani meridionali. Per quanto riguarda le temperature non ci saranno variazioni di rilievo con massime e minime per lo più stazionali. Venti moderanti dai quadranti orientali con rinforzi sulle coste al mattino. Mari da poco mosso lo Ionio a mosso l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò che ha immortalato la prima luna piena della primavera meteorologica che si riflette sul bellissimo mare di Torre dell'Orso. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One o Teleappola oppure alle mail che vedete in sovripressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti